Quale che ci aspetta il prossimo weekend è sicuramente un'esperienza importante, sarà un'ottima vetrina europea con la quale abbiamo già avuto esperienza lo scorso anno, però sicuramente ci aspettiamo un livello molto più alto in quanto comunque si parla di Champions League. Sarà una bellissima esperienza prima di tutto e in secondo luogo un'esperienza di crescita personale e come giocatori sicuramente. Nonostante comunque la squadra sia rimasta più o meno la stessa, abbiamo comunque delle giocatrici nuove, giovani che si approcciano per la prima volta addirittura al campionato di Serie A. Sarà un'esperienza molto difficile in quanto comunque la prima partita che giocheremo sabato sarà contro una squadra polacca che abbiamo visto essere molto forte sia come tecnica individuale delle giocatrici sia come a livello di squadra. Si servono di un gioco molto veloce e molto differente sicuramente da quello che è tipico delle squadre italiane affrontate finora. Però speriamo di fare del nostro meglio e cercheremo di mettercela tutta per raggiungere un risultato accettabile, possibile. Speriamo di poter fare bene.